Se il Signore trova nel nostro cuore una fede, non dico perfetta, ma sincera, genuina, allora Lui vede anche in noi delle pietre vive con cui costruire la sua comunità. Di questa comunità la pietra fondamentale è Cristo, pietra angolare e unica. Prima della preghiera mariana dell'Angelus, Papa Francesco ha commentato il Vangelo odierno in cui Matteo racconta la professione di fede di Simon Pietro e ha ricordato che ogni cristiano è chiamato a rendere testimonianza dell'amore del Figlio di Dio. Gesù infatti ha voluto dare vita alla sua Chiesa, un popolo fondato non più sulla discendenza ma sulla fede, vale a dire sul rapporto con Lui stesso, un rapporto di amore e di fiducia. Non sono essenziali dunque le qualità e i meriti personali, ha ricordato il Pontefice, in un dialogo schietto con i fedeli radunati in piazza San Pietro, ma una fede genuina e salda attraverso la quale Cristo ancora oggi costruisce la sua Chiesa in ogni parte del mondo.